Scaletta, uno dei comuni distrutti dall'alluvione del 2009 alla sua sede di protezione civile. Da ieri si è conclusa con successo la manifestazione Anch'io sono la protezione civile, protagonisti volontari giunti da tutta la Sicilia che si sono imbattuti in una simulazione di un sisma con interventi di tipo sanitario, antincendio, recupero e soccorso di feriti ma anche di allestimento di un campo. Un evento che oltre a testare l'efficienza e la preparazione di uomini e mezzi in caso di emergenza è servito come piattaforma di condivisione di competenze ed esperienze tra le associazioni presenti. Fondamentale anche l'allestimento di un campo didattico dove hanno partecipato gli studenti della scuola media Giacobbe e dove sono state presentate le norme comportamentali e il piano di protezione civile comunale. Ieri il taglio del nastro a cura del sindaco Gianfranco Moschella nella nuova sede della protezione civile comunale ospitata nell'ex scuola elementare Don Boschi in via Foragine in una zona simbolo del 1 ottobre 2009. Presenti insieme alle autorità locali anche l'ingegnere Bruno Manfrè responsabile provinciale della protezione civile che ha avuto parole di elogio per i volontari e Gaetano Sciacca ex capo del genio civile che ha voluto evidenziare come tutte le opere di messa in sicurezza del territorio siano risultate efficaci. L'evento come la ristrutturazione della sede sono stati realizzati senza ricevere finanziamenti ma solo con il contributo dei volontari del neonato gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Scalette.